Ciao a tutti e bentornati a una nuova Aperistoria. La storia di oggi inizia il 23 giugno 1858 a Bologna. All'epoca Bologna faceva parte dello Stato Pontificio, dei domini della Chiesa, dominio dell'ultimo Papa Re Pio IX, ed era un territorio amministrato proprio secondo le leggi della Chiesa. La nostra storia inizia in una piccola casa abitata da una famiglia, la famiglia Mortara. Padre, madre, tanti figli, all'epoca si faceva così, che proprio quella sera ricevette una visita inaspettata. All'improvviso bussarono alla porta. Non era un bussare leggero, di quelli che magari può fare un amico venuto a trovarti, no, era un bussare pesante e qualcuno dietro la porta ordinò di aprire. Il padre andò ad aprire e si trovò davanti dei soldati dello Stato Pontificio, che dissero di essere lì per ordine dell'inquisitore di Bologna per prendere uno dei figli della coppia. Edgardo, un bambino di soli sei anni, che nonostante il tentativo dei genitori di fermarli, nonostante le richieste del padre, nonostante pare che la madre fosse addirittura svenuta per cercare di fermare quei soldati, venne strappato alla famiglia e addirittura portato via da Bologna, mandato a Roma. Che cosa aveva fatto quel bambino? Che cosa aveva fatto Edgardo Mortara, di sei anni? Beh, lui non aveva fatto nulla. Non era un lado, non aveva rubato al mercato, non avevano fatto nulla, neanche i suoi genitori. Anche loro non erano dei ladri, ma avevano una colpa. Erano ebrei. All'epoca, nello Stato Pontificio, così come in molti altri stati del mondo, esistevano delle legislazioni speciali per gli ebrei. Avevano poche possibilità dal punto di vista lavorativo, erano costretti a vivere in determinate zone. I famosi ghetti, cui i cancelli venivano chiusi di notte per separare cristiani ed ebrei, non potevano lavorare per i cristiani, non potevano fare certi lavori, addirittura, teoricamente, non potevano neanche che avere dei cristiani al loro servizio. Anche se questa cosa, in effetti, non è che fosse più di tanto rispettata. In effetti, la famiglia Mortara aveva una tutrice, una nutrice, chiedo scusa, cristiana, che si chiamava Anna Morisi, che era una ragazza che in casa faceva un po' di tutto, aiutava a pulire, a cucinare e soprattutto si occupava dei bambini. Qualche giorno prima, la Morisi aveva, parlando con una sua amica, espresso un timore, il fatto che uno degli ultimi figli della coppia, ancora veramente molto piccolo, si fosse ammalato e rischiasse la morte. Stiamo nel XIX secolo, la medicina era ancora ben lontana da essere quella moderna, purtroppo la mortalità infantile era abbastanza alta, e ovviamente, dato che era un bambino, non battezzato, perché cresciuto in una famiglia ebraica, temeva per la sua anima. L'amica gli aveva detto, beh, allora se questo è quello che temi, battezzalo, fallo tu, non serve neanche portarlo da un prete, basta che lo prendi e lo battezzi. In effetti, all'epoca, la legge avrebbe previsto che per battezzare un bambino servisse un prete per poterlo fare, ma esisteva anche una legge, che era stata ovviamente tramandata attraverso i secoli, che prevedeva che in caso in cui il bambino si fosse trovato in pericolo di vita, per evitare alla sua anima di finire nel limbo, potesse essere battezzato da qualunque cristiano, che bastava che lo bagnasse con dell'acqua, pronunciasse una frase di rito, pronunciasse una preghiera, battezzando in questo modo il bambino. L'amica propose quindi di battezzare questo bambino, ma la cameriera, dopo averci pensato un po' su, rifiutò, e rifiutò dicendo che in realtà in passato già si era trovata nella stessa situazione, proprio per Edgardo, che quando aveva appena 14 mesi sembrava essere sul punto di morire e così, di nascosto, senza assolutamente dirlo ai genitori, la ragazza lo aveva battezzato, facendo esattamente come gli aveva detto l'amica. Ora, la notizia sembrò chiudersi qua, ma ovviamente non fu così, perché l'amica lo raccontò a qualcun altro, che lo raccontò a qualcun altro, che lo raccontò al suo confessore, che lo raccontò ancora più in alto, e alla fine la notizia arrivò proprio all'inquisitore di Bologna. Ora, tra le tante leggi che colpivano gli ebrei, una era particolarmente dura. Prevedeva infatti che un bambino cristiano non potesse essere cresciuto da una famiglia ebraica. La cosa in passato aveva creato grossi problemi, perché ovviamente quando si voleva punire una famiglia ebraica, magari i vicini si riunivano, entravano in casa, battezzavano a forza uno o più bambini, e in questo modo permettevano alla legge di prenderli e portarli via dalla coppia. Ed era una legge talmente assurda, talmente antica, che addirittura nel XVIII secolo un papa era intervenuto per sospenderla, anche se poi una settantina d'anni più tardi era stata reintrodotta, pur con tutta una serie di limitazioni. La legge però formalmente esisteva. E proprio su quella legge, e proprio su quella legge, l'inquisitore generale di Bologna, dopo essersi probabilmente confrontato con lo stesso Pionono, decise di intervenire. Prese il bambino e lo spedì a Roma. Perché a Roma? Beh, perché a Roma c'era una struttura apposita, una struttura che, pensate, era quasi come fosse una presa in giro finanziata con una tassa speciale, messa proprio sulle comunità ebraiche, in cui venivano portati sia ebrei che si erano voluti battezzare volutamente, sia questi bambini che erano stati battezzati un po' a forza. E qui venivano cresciuti, e qui gli venivano insegnate tutte le basi dottrinali del cristianesimo. Edgardo, strappato alla sua famiglia, sarà portato proprio in questa struttura. Ovviamente la famiglia non si diede per vinta. Cerco di mettere in mezzo gli avvocati, utilizzando anche la comunità ebraica, che ovviamente si strinse intorno a questa famiglia, rendendosi conto della follia di quello che era avvenuto. Cercò di riprendere i contatti con i bambini, chiese al Papa, chiese alle altre gerarchie di poter avere un contatto, e cercò in tutti i modi di riavere il bambino indietro. Anche perché qualche anno prima era successa una cosa simile, ma la famiglia, che peraltro era di origine francese, era riuscita, proprio mettendo in mezzo il governo francese, a riavere il bambino. Questa volta le cose però andarono diversamente. La famiglia ottenne di poter vedere il bambino, solo alcune volte, solo sotto stretto controllo, volte che potevano essere concesse e poi annullate in ogni momento, ma alla fine gli furono negate anche questi incontri, e il bambino letteralmente scomparve all'interno del sistema chiesa. La notizia però di quello che era avvenuto, nei mesi successivi, iniziò a rimbalzare per tutta Italia e tutta Europa. Ovviamente i giornali di molti stati, a cominciare dal regno di Sardegna, da Cavour, che cercava in tutti i modi di far vedere come lo stato pontificio fosse in realtà un reliquato medievale, così come lo chiamava lui, ebbene, cercarono di mettere in mostra la follia di quello che era avvenuto. Una legge antichissima, che non aveva forse più ragione d'essere nel XIX secolo, e che era stata sfruttata però per strappare un bambino alla sua famiglia. Nonostante la campagna di stampa, nonostante tanti uomini di Stato chiedessero al Papa di lasciare andare il bambino, di restituirlo alla famiglia, addirittura lo stesso Napoleone III, che sulla carta era il principale protettore dello Stato della Chiesa, provò ad intervenire, il Papa rifiutò qualunque cambiamento, e continuò ad ordinare che il bambino rimanesse presso Roma, e soprattutto che diventasse un sacerdote, che entrasse in seminario e venisse iniziato proprio alla strada per diventare un sacerdote. Nonostante tutti i tentativi, anche dal punto di vista giudiziario, le cose non cambiarono. Non cambiarono quando Bologna venne annessa al neonato Regno d'Italia, e addirittura non cambiarono neanche quando la stessa Roma sarà conquistata, e il potere dello Stato Pontificio terminerà. Pensate che uno dei fratelli di Edgardo Mortara, Riccardo, fu uno dei bersaglieri che presero, che fecero la breccia di Portapia. Sarà anche premiato per quello, ma purtroppo non servirà a nulla per aiutare il fratello. Edgardo, intanto, rimanendo presso la chiesa, ovviamente era stato plagiato. Ora, qualcuno dice che la conversione gli avesse aperto una strada verso la religione, che le sue convinzioni, che si dimostrarono molto salde negli anni dopo, gli fossero giunte quasi per ispirazione divina, ma siamo seri, un bambino di sei anni, strappato alla sua famiglia, che inizia a essere indottrinato, è stato plagiato. E da quel plagio se ne si rese conto anche man mano con l'evoluzione delle sue lettere, degli scritti, che iniziarono a essere inviate ai giornali, alla stessa famiglia, dicendo di quanto il bambino, che intanto aveva cambiato nome, aveva assunto il nome di Pio Maria, Pio ovviamente dal Papa, fosse ormai in pace all'interno della chiesa. Quando Roma cadde, di fronte al nuovo divampare delle polemiche su questa storia, il Papa consigliò al neosacerdote di abbandonare Roma, si diresse nel resto d'Europa, e qui divenne un missionario, impegnando tutta la sua vita nel cercare di convertire le comunità ebraiche nei vari stati in cui si trovava. Pare che a un certo punto avesse anche ripreso i contatti con la famiglia, proprio a quel periodo fa parte questa foto che vi metto qui a fianco insieme al fratello e alla madre, il padre purtroppo intanto era morto, ma si sa che in realtà furono rapporti molto freddi, anche perché l'unico obiettivo di Pio sembrava essere quello di convertire i parenti, e una volta che questi si rifiutarono di abbandonare la loro religione, anche lui troncò definitivamente i rapporti e scomparve. In realtà la storia continuò ad uscire ciclicamente, fino a quando anche per la chiesa non iniziò ad essere una storia di cui non si voleva parlare, e man mano che i rapporti con la società civile evolvettero, in qualche modo Pio iniziò a scomparire dalle notizie, anche perché molti dei prelati delle zone in cui si trovava ad operare si lamentarono del suo zelo missionario. Alla fine, dopo aver fatto un viaggio anche in America dove gli fu addirittura vietato dal vescovo di New York di fare qualunque proselitismo, tornò in Europa. Nel 1930 entrò in un convento a Liegi e qui morì nel 1940. La storia termina qua. Nel corso del tempo si è fatto notare come la stessa confessione di Anna Morisi fosse dal punto di vista giudiziario poco credibile, le erano state fatti firmare dei fogli scritti da altri in cui confessava cose peraltro talvolta discordanti, addirittura con date diverse sulla sua età, in alcuni aveva 16 anni, in altri 20, 24, quindi insomma non c'è niente di chiaro in questa storia. L'unica cosa che è chiaro è che si trattò di una violenza, una violenza che oggi ci fa inorridire, ma che se ci pensate è avvenuta appena un secolo e mezzo fa. Quindi io mi fermo qua, brindo, sperando che in qualche modo la famiglia sperando che queste cose non succedano mai più, che bambini non vengano più strappati alle famiglie per essere indottrinati, ma sappiamo benissimo che in giro per il mondo di cose del genere ne succedono e come, e per brindare vi consiglio del Pignoletto, un vino bolognese alla vostra e a quella della famiglia mortale. Grazie a tutti.